900 iscritti, 90 premio. Scoppia la bolla al lipo e parte il canonico applauso della sala, mentre il 91esimo se ne va corrucciato in volto. Adesso tutti hanno riportato a casa il buy-in più 320 euro, ma l'obiettivo è quello di vincere una prima moneta da 100.000 euro. La strada è ancora lunghissima, pile di cippe altissime si ridurranno e altre si innalzeranno. Al momento l'everage è 405.000, quando i bui sono 6.000-12.000. Diciamo serenamente che la struttura tiene. Non hanno invece tenuto i nervi dell'uomo bolla. Si è giocato le sue 250.000 chip in una situazione che definire evitabilissima è poco. Chi è causa del suo male, insomma, pianga se stesso. Si chiama Luca Sasky ed è cieco-slovacco. In realtà, visto che la nazione si è divisa il 1 gennaio 1993, non sappiamo se sia cieco o slovacco. Ma, per come ha giocato, propenderei sicuramente per il cieco.